Fai spiegare che non sia il saldo che fai giochetti, no, ecco? E' per capire, sì, ma è greco! Non c'è nessuno che ha quello che ha detto, ma non mette, no? Quindi rispondiamo anche il fratello che è sotto. Ma è vero che quello che non si chiamano quando da lì per lo suono. Ma dove è tricolare questa cazzo mia? Adesso, sbagliati, basta! Ma dai, no, va dai! Forse non è capito che mangia più domenica dei pizzerici. Il commento è che è meglio un intelligente pigro che un cretino gelato. Indestini se verifica cosa incosta a tutti i cretini gelati. I cretini li devi farli. E' una roba che ti si mette a mezzo. Tra l'altro impreda al sacro fuoco dello zelo I combina, sfraccei, peggio di qui che fanno cazzo. E ti potesce niente a rinchiare i conti e tu la la rabbi. Perché io sono andato, e sei davanti a mezzo. Ma la roba da un altro non ha mai fatto. Non io ne ho mai credito. Ma fai divenire la vicenda con la Val de Renzel che mi immagisci, ricattaisci, adorovaisci, mi sono mai sentito. Ero in paradiso con la gente. Non avevo altro niente. Non volevo io dire che non andrò a mancarlo perché... A un certo punto li hai sentiti. Stavo corollando Campo Gattoni. La responsabilità di quelle morti sarebbe pesata sulla mia cucina. Ma Campo Gattoni sulla roccia non trova. I vallini piccoli stanno annegando. Ma che dici? Ma mi sono diventata una volta. Ma a me mi ricordo. Non avevo... Ma sai che tu che ogni fuoco l'incontro? Che gli amicatori su Campo Gattoni? La dovevo farsi i nini torni su ovunque fuori a Campo Gattoni. Perché i carri amici di gioco. E noi ogni fuoco ha detto adesso a dirmi che ieri erano inti in paradischi, dormire, fassero la nana e venivano per i coglioni. E non è successo assolutamente niente. Ne avevo io gioco neanche una pisa. Allora chi l'ha detto? Ma tu hai la vita tutta al piede. Chi l'ha detto a cosa? Si, a... Allora mi ha detto a Corsi... Ciondi, non sei così. Che fallisce. Io? Ma non fate fai risciare la terra con il lavoro del mondo del passato. Ma risciare la terra. Perché sentivo la radio e poi... E abbiamo privilegiato quel trasporto a danno degli amati di frontale, a danno della gente in pericolo, a danno di quel che era intorno al dintre la sua casa, che speciavamo, eccetera. Però... Io non mi si può mica farlo.